Comunque Martina è una che gode nel cantare il dolore, l'ho capito con tensione evolutiva, c'è lì una versione che a me è piaciuta più dell'originale. Sembra quasi che lei stia sempre elegantemente scoppiando in lacrime, e vedere una persona che si compiace del dolore non premia sempre. Magari ha premiato in passato, ma in questo caso non lo so, perché Calcutta è uno che ha delle melodie chiare, bellissime già di per sé. Lei ogni volta che canta la melodia la fa sua, e in questo caso a me non mi sembra che le sia riuscito. Cioè ricordate Santi quando all'edizione ha cantato Calcutta? Lo ha fatto in maniera molto fedele ma col suo timbro, e funzionava, la stessa bonsai sembrava una cover di Calcutta, e funzionava a suo modo. Non lo so, oggi comunque Martina, che è una delle mie preferite, mi è sembrata sincera a livello emotivo, ma la canzone non mi è suonata. Cioè secondo me hanno sbagliato, dovevano dargli un'altra canzone se volevano fare Calcutta, ma a me non mi ha suonato proprio. Cioè la vedevo, dicevo cazzo quanto è brava, sentivo la sua emozione, soprattutto sul finale, molto toccante, ma la canzone non mi suonava, non mi piaceva. Non stavo sentendo un qualcosa di gradevole, da un punto di vista proprio semplicistico del discorso. Cioè quando tu senti un qualcosa di qualità che però non ti piace, dici ok riconosco la qualità, riconosco il sentimento, però non lo so. E questo comunque rendeva il suo dolore, la sua sofferenza, quello che lei esprimeva, un po' meno forte di quello che ha fatto i concreti era. Perché non mi sono concentrato sulla canzone che non mi stava facendo molto, ma bensì su questa ragazza che appunto si compiace del dolore. E questo, cioè io che vengo dal teatro, insomma, cagna maledetta, no, sto scherzando, io adoro comunque Martina, la adoro. E secondo me è stata una scelta sbagliata questo brano, molto sbagliata. E spero tanto che non esca, perché io veramente la adoro. E voglio sentire nuove canzoni sue, magari, però scritte solo da lei, senza tutta l'ambaradam di X-Factor che la aiuta a livello lirico, perché non ne ha bisogno. E rivolgo una canzone come la sua prima hit. Vabbè, comunque, oggi stasera purtroppo a me non mi ha convinto, lo dico a malincuore perché io la adoro, però raga, che devo fare? Sono sincero, lo sapete.